Ecco cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno, diciamo che quest'anno a differenza dell'anno scorso possiamo celebrare i riti della settimana santa anche se non tutti tipo la via crucis non si può fare però possiamo celebrare in chiesa, la domenica delle palme è stata frequentatissima più che a Natale direi e i riti della settimana santa adesso si svolgono e sono un segno di speranza per i credenti e penso anche per i non credenti perché comunque la Pasqua è sempre una di quelle feste basti pensare alla corsa a far benedire le uova, è una festa che coinvolge tutti perché alla fine è la festa della speranza in Gesù che risorge, è la festa appunto ne abbiamo tanto bisogno della resurrezione. Come si sta comportando la gente durante le domeniche, frequenta la messa? Dunque moltissima gente, molta gente almeno a quello che mi dicono stanno ancora a casa per paura, gli anziani specialmente per paura del contagio, giustamente anche seguendo in televisione però tutti mi dicono ma io lo guardo la messa in televisione vale lo stesso? Detto a Tiburossini questa cosa, certo che vale per chi non può venire. Adesso credo che ci sia un po' più di apertura però appunto l'ho visto la domenica delle palme e nella affluenza di questi giorni. La chiesa si sta organizzando come sempre cercando di rispettare le regole, il distanziamento, il numero massimo ma a Montecchia abbiamo una chiesa molto grande quindi ci sta tanta gente davvero con le mascherine, con le mani disinfettate all'ingresso, distinguendo l'uscita, l'entrata e l'uscita, insomma tutte le regole che si devono osservare. Però mi sembra che ci sia una maggiore partecipazione, speriamo che continui a crescere anche con l'estinguersi, speriamo molto vicino, della pandemia. In questo segnale di speranza un suo messaggio per una buona Pasqua. Sì, dirsi buona Pasqua non vuol solo dire passa una buona giornata, non mangiare troppi capelletti o troppo agnello. Dirsi buona Pasqua vuol dire dire buona resurrezione, resurrezione alla vita eterna ma anche resurrezione della speranza di guardare avanti, di guardare un futuro per i nostri ragazzi, per i nostri giovani ma anche per tutti noi. La nostra speranza è fondata su Gesù che vince la morte e che dà un senso a tutta la nostra vita, anche a quelle cose che apparentemente questo senso non ce l'hanno. Pasqua è una luce che si accende nella vita del mondo e chi è stato a Gerusalemme e al Santo Sepolcro lo sa benissimo. C'è una speranza per il mondo perché c'è una vita che continua, non tanto un'altra vita ma una vita eterna già nascosta nella vita che viviamo noi. Si tratta di tirarla fuori, tiriamo fuori tutta la luce possibile che portiamo nel cuore perché il momento è molto buio e c'è tanto bisogno di luce. Grazie.